Massimo e Carlo sono due esperti anche dal punto di vista narrativo, tecnico e documentario e culturale su delitti e modi di raccontarli. Ho capito che il podcast è una forma d'arte e di comunicazione con dei criteri e delle regole assolutamente interne, non confondibile semplicemente perché è audio con altre cose audio. Ne ho parlato anche con altri facitori di podcast ed è veramente un'arte bellissima perché è bellissima perché come sempre quando non c'è l'atto della lettura e non c'è neanche una cosa che vedi la tua fantasia ti spinge a essere attento, creativo eccetera eccetera. Io ho una figliola che mi faceva quando andavo in macchina sempre ascoltare anche la stessa puntata di un podcast di Demoni Urbani era in quel caso perché io sapevo già tutto della saponificatrice di Carpi ma ogni giorno devo sentirla perché le piaceva questa cosa qua. Con loro penso che parleremo sia di questa loro nuova produzione sia anche mi piacerebbe un po' il retroscena di come si monta, di che tipo di lavoro è perché so che è un lavorone e come sempre fa piacere vedere dietro le quinte come si struttura un grande lavoro che poi in uscita è un prodotto compatto, levigato, fruibile, di cui si gode solo, in cui non si vede il lavorio che l'ha costruito. Però io dovrei partire invece da una cosa con cui ci siamo messi d'accordo e cioè c'è una questione sugli animali A chi do la parola prima su questa questione del... Sì, tu? Sugli animali, cioè su... Sì, sì, sì. Ah, va bene. Grazie, tanto grazie a voi di essere qua. Grazie a voi di essere qua, infatti credo che ti riferisci a uno dei capitoli di cui abbiamo perché il bello di fare questo lavoro, che questo è la... Cos'è? La terza, no? È la terza puntata, diciamo, di una lunga... Di un lavoro molto strutturato che vorrebbe essere una sorta di storia dell'omicidio di cui poi vi parla meglio Massimo che lui l'esperto però il bello di fare questa cosa qui, di essere partiti dall'età contemporanea poi quella moderna, poi adesso in quella medievale e così via è quello di scoprire un sacco di cose che io ovviamente non conoscevo e sul Medioevo è stato molto interessante perché io avevo tutta una serie di idee, di preconcetti, di pregiudizi se volete, da quel punto di vista lì, nella violenza nel Medioevo e poi invece di scoprire un sacco di cose, nel bene e nel male una di quelle nel male è questo assurdo momento dei processi agli animali che si tenevano nel Medioevo con una logica che allora era accettabilissima a noi adesso ci sembra assurdo che venga processato un maiale oppure una giumenta, un cane, un gatto che vengano processati poi con tutte le regole dei processi con un dispendio di energia e di denaro enorme perché c'erano tutte le fatture la lista dei conti che per esempio era costato processare, detenere in carcere, mantenere e poi dopo eseguire mediante impiccagione la pena per una scrofa che aveva mangiato un bambino come succede, perché nel Medioevo soprattutto gli animali erano abbastanza liberi c'era una sorta di promiscuità tra gli uomini soprattutto con i maiali che erano un elemento molto importante della civiltà di allora per cui poteva capitare che un bambino lasciato incustodito fosse vittima di un maiale che magari entrava in casa eccetera allora a quel punto si arrestava il maiale si arrestavano, in un caso sono stati arrestati per esempio anche i maialini che erano con la scrofa perché non si sa mai che fossero complici in qualche maniera e poi venivano detenuti, processati, scortati e la scrofa in quel caso era stata condannata a morte mediante impiccagione scortata fino al patibolo su una carretta con i balestrieri attorno come voleva la legge allora siamo in Francia e poi uccisa da un boia che ovviamente costava un sacco di soldi e che si era dovuto comprare un guanto nuovo perché allora la legge diceva la legge ma anche l'etica e la religione dicevano che la mano che uccide per conto della legge deve essere pura e quindi si cambiava il guanto il boia ovviamente ed è una cosa incredibile perché vedi come in quel momento lì la logica delle scelte logiche portassero ad una cosa che adesso ci sembra di una sordità incredibile anche se vediamo molte volte dei meccanismi simili c'è un processo un altro processo incredibile perché si processavano sia gli animali che avevano commesso qualcosa un toro per esempio che scappa dalla stalla e travolge un signore quello lì viene processato e viene ucciso non sono riuscito e ne è impiccato come questa cosa succeda non lo so perché voglio dire mi pare abbastanza difficile però era così venivano processati e poi dopo uccisi gli animali in questo senso ma venivano processati anche gli uomini per esempio che avevano a che fare con gli animali gli atti di zoofilia insomma atti carnali con animali ovviamente venivano processati e gli uomini venivano spediti immediatamente a rogo gli uomini le persone gli esseri umani diciamo per gli animali ci si pensava su c'è un caso bellissimo di una giumenta che ha avuto una relazione sessuale con un uomo cioè l'uomo ha avuto una relazione con la giumenta e la giumenta e l'uomo viene condannato subito a rogo è ucciso subito perché gli atti zoofilia avevano comunque a che fare col diavolo eccetera la giumenta evidentemente il padrone della giumenta ci tiene si chiedono se abbia o no collaborato all'atto e siccome la giumenta era stata ferma e non si era mai mossa non aveva fatto rumore ma non solo testimonianze dicevano che era una giumenta per bene che mai aveva fatto niente di male che non aveva mai neanche tentato qualcuno e allora la giumenta viene risparmiata altrimenti le domande erano le stesse di sempre non è che l'ha provocato non è che se l'è cercata ma come si comportava questa giumenta qua ecco nel caso dei maiali c'è a un certo punto un processo bellissimo per cui c'è un ragazzino perché di solito le vittime ovviamente sono dei bambini perché i grandi sanno difendersi meglio che mentre sta nello stalletto dei maiali ad accudire i maiali viene aggredito anche lì da un maiale una scrofa credo sempre probabilmente perché si è avvicinato troppo ai porcellini piccoli viene aggredito e viene ucciso e ci sono altri 16 maiali la scrofa viene subito condannata perché è così e poi ci si chiede anzi con molto zello se dobbiamo anche processare e condannare anche gli altri 16 maiali perché? perché non sono intervenuti a difesa del bambino anzi urlavano così tanto che sembrava incitassero la scrofa ad uccidere il bambino e ora evidentemente come dire concorrono altre considerazioni 16 maiali da far fuori subito oddio sono una bella perdita economica infatti li requisisce tutti la signora del luogo la contessa dicendo ci penso io ad educarli bene nella retta via poi finiscono ovviamente sulla sua tavola la cosa però interessante è come tutte queste cose qui fossero regolate credute ritenute logiche sulla base di considerazioni filosofiche religiose per cui gli animali dono di Dio all'uomo che si ribellano vanno puniti vanno puniti perché così anche gli uomini sanno che puoi essere anche l'ultimo l'ultima ruota del carro un gattino o un maiale ma comunque se fai qualcosa che viene ritenuto dal potere sbagliato ti beccano non vengono cacciati per esempio in questo modo qui non vengono processati altri animali e da lì capisci che esiste una logica non è solo che nel medioevo sono impazziti e facevano delle cose così sulla base di correre dietro i fantasmi i lupi per esempio non vengono processati perché i lupi sono selvatici sono creature selvatiche non appartengono ad una logica che è quella della convivenza con l'essere umano se il maiale si ribella il maiale va processato il lupo va cacciato va ucciso perché ovviamente è un problema va tolto di mezzo poi le cose cambieranno quando ci saranno i processi e i lupi perché vengono creduti i lupi mannari ma questo già è nel capitolo del libro precedente a questo cioè siamo oltre il medioevo e quindi perché i lupi mannari sono sono streghe sono stregoni quindi la paura della stregoneria del lupo mannaro della cosa che c'è nella Francia per esempio del Cinquecento ti porta ad impiccare un sacco di poveri lupi o di povere persone i lupi perché sono un po' strani le persone perché sono un po' strane anche quelle e quindi però il processo agli animali è veramente una cosa che ho letto un sacco di libri su questo ho raccolto tanto avrei continuato a scrivere poi a un certo punto finiscono le battute finiscono le parole ma sarei andato avanti all'infinito vi siete imbattuti in questo oppure era una cosa che alleggiava nel no allora prima di stendere un pochino l'indice dei volumi oramai siamo arrivati al terzo come diceva Carlo ci manca soltanto l'antichità e quindi andremmo a concludere con Caino e Abele quindi avremmo chiuso un po' il cerchio dopo aver cercato in giro aver visto che non c'era una storia dell'omicidio al mondo ci sono alcune storie del crimine ma storia dell'omicidio non ce n'è quindi in realtà partiamo da una selezione molto ampia di casi che più ci allontaniamo dal contemporaneo più devono essere curiosi interessanti drammatici neri perché naturalmente la pile che sulle persone hanno i casi recenti è ben diverso da quello che tu tieni andando indietro una cosa per chiudere quello che diceva prima Carlo sui processi agli animali regole loro illogiche o incomprensibili fino a un certo punto perché tra i tanti animali che vengono processati ci sono anche le cavallette responsabili di avere distrutto i raccolti e quindi lì sì c'è l'illogicità di doverli convocare davanti a un tribunale perché hanno diritto a difendersi quindi veniva nominato un avvocato ma loro venivano invocati veniva chiesto loro di partecipare al processo di presentarsi e naturalmente non presentandosi le cavallette al processo venivano condannate in contumacia dov'è il particolare che però va un po' controcorrente sul fatto della follia apparente che a un certo punto sulle cavallette il tutto si concludeva con una processione sacra e uno spargimento di olio sacro una benedizione peccato che chi organizzava queste processioni e queste benedizioni a un certo punto sapesse perfettamente quanto durava il ciclo vitale delle cavallette per cui quando la cavalletta era destinata a morire di suo perché oramai era finita la stagione e si avvicinava l'autunno ecco uscire tra i tanti che vengono citati c'è anche Sant'Ambrogio che era stato chiamato per una invasione di mosche e anche lì sapendo perfettamente il ciclo di vita delle mosche lui è arrivato benedetto e giù a mosche a badilate per cui con grande effetto tornando a quello che dicevi tu noi partiamo da una selezione molto ampia di casi già adesso stiamo lavorando per il prossimo e naturalmente essendo nell'antichità siamo a Torino c'è il processo Aram 7 non mi ricordo se secondo o terzo c'era una storia che si chiama la congiura dell'Arem in cui c'è un papiro al museo egizio di Torino e pensate che Aram 7 fu sepolto e quando fece lo studi non tanto tempo fa qualche decennio fa per capire come era stato ucciso si è scoperta una moneta di rame sulla gola perché lui fu sgozzato durante questa congiura e la moneta di rame teoricamente avrebbe dovuto cauterizzare la ferita perché il rame questo faceva però se ti segano l'arteria o la carotide puoi mettere tante di quelle monete che vuoi però in realtà è difficile e quello che è importante è che raccontando e cercando prima di tutto questi casi ci divertiamo ci divertiamo se posso vi posso anch'io raccontare una cosa un capitolo che mi ha colpito è della storia di Papa Formoso I che è già buona che ci sia stato il primo perché con quel nome lì francamente il secondo non ci arrivavi a Formoso II sta di fatto che Formoso I ne combina talmente tante che quando poi finisce il suo pontificato e come pontefice viene eletto Stefano VI Stefano VI incontra tutti i guai che ha prodotto Formoso I lo fa così incavolare che a un certo punto decide Stefano VI di portare in processo Formoso I perché si possa difendere c'è un piccolo problema allora innanzitutto la legge in vigore all'epoca imponeva che le persone accusate o indagate dovessero presentarsi per potersi difendere in aula e quindi vanno a recuperare Formoso I che detto per inteso era sepolto da un anno quindi era già in stato avanzato di putrefazione ma non contava questo gli danno un bello scranno e lo legano naturalmente allo scranno perché dopo un anno di putrefazione aveva la tendenza a non stare su bello dritto soprattutto il mento in genere tende a cadere in avanti lo leggono per bene e gli piazzano un giovane diacono alle spalle così che Papa Stefano VI possa accusare in maniera veimente forte Papa Formoso I e Papa Formoso può difendersi perché con la voce del diacono nascosto dietro risponde cosa di processo naturalmente si conclude con la condanna di Papa Formoso I gli tagliano tre dita pollice indice meglio che sono le tre dita con cui benediceva poi lo buttano nell'Arno e la cosa finirebbe lì se nonché la tradizione vuole che un frate in sogno si senta raccontare appunto che sul rive dell'Arno sarebbe passato il cadavere di un Papa il frate intercetta il cadavere senza tre dita di Papa Formoso I lo riporta sulla terraferma e lo seppellisce con tutti gli onori e questo è Formoso I il sinodo del sangue che è avvenuto intorno a 800-900 non 1800 però proprio 800-900 dopo Cristo quando Massimo dice che ci siamo divertiti intende personcine un po' così che siamo un po' fatti così magari anche molti di voi io la prima volta dico solo questo aneddoto che ho conosciuto Massimo dovevamo collaborare per un libro nel frattempo la casa editrice voleva che facessimo delle fotografie tanti anni fa perché noi collaboriamo da un sacco di tempo e allora ci siamo ritrovati davanti alla libreria del giallo di Milano quindi che già è una situazione libreria del giallo poi ci siamo io e lui io sono un noto serial killer sulla carta lui o il Massimo Picozzi altrettanto tutti vestiti di nero perché ci vestiamo così tutta una cosa un po' così e mentre siamo fermi il fotografo ci sta fotografando dietro arriva un camioncino un furgoncino noi siamo lì il furgoncino si apre e scaricano due bare noi abbiamo detto beh c'era vicino una casa di cura per anziani ed erano morti due degenti purtroppo la sera prima e noi abbiamo detto guarda un po' il destino io ho pensato sarà l'inizio di una lunga amicizia come Humphrey Bogart e i francesi devo stare ancora un attimo sugli animali anche sul Papa nel senso che come hai detto tu più si va lontano dalla contemporaneità e più le storie devono avere qualcosa che il fatto di cronaca porta però secondo me è meglio perché a occhio io trovo più interessante una cosa di un ambiente di cui non capisco niente io so che la devianza di quello che capisco meglio per esempio mi chiedevo questa cosa qui che sembra pazzia cioè quella di impiccare le maiaci come fai cioè ti cominci a non capire come funziona le cavallette quando andate in contumare ma questo qui fa risaltare che c'è una procedura una procedura che non guarda la razionalità del caso specifico perché è razionale è lei allora questo riverbera sui tempi nostri cioè voi avete pensato guarda anche noi in realtà nelle nostre procedure di adesso abbiamo delle cose che magari appariranno completamente fuori fuori luogo in futuro c'è questo battimento sicuramente sì ma infatti la cosa interessante nel raccontare queste storie è trovare i meccanismi che ci stanno sotto oltre al fatto eclatante che se ti metti a raccontare appunto il Papa gli animali ma anche tutte le altre cose che abbiamo raccontato ovviamente sono interessanti ma al di là di quello sono importanti perché raccontano dei meccanismi perché hanno una logica appunto non è solo la follia del medioevo erano tutti matti e quindi si accannivano contro i maiali non è quello c'era una logica ovviamente che è sempre la logica del potere in questo caso una procedura come tu dici che ha una razionalità in se stessa perché deve affermare delle cose processare un maiale che ha ucciso un bambino per esempio significa intanto scaricare l'umano della colpa di non aver custodito il maiale significa in qualche maniera risarcire la famiglia del bambino senza colpire l'umano o facendo in modo che l'umano risarcisca in un altro modo significa affermare un potere che è un potere che arriva fino all'ultimo proprio come si dice significa affermare un potere come ha detto Massimo che afferma se stesso con una ritualità che a noi ci sembra assurda ma se processi le cavallette e le cavallette se ne vanno perché tanto se ne andranno tutti sono convinti che quel potere lì sia un potere che funziona alla fine c'è una logica dietro tutto questo e ti ritrovi molte volte la stessa logica adesso nella gestione del potere dell'impunità della legge fatta in altri modi a me viene infatti da pensare che magari che ne so fra cento anni ci sarà qualcuno che scrive farà un podcast non so come olografico queste robe qua in cui racconteranno le stranezze che facevamo noi in questi anni qua cosa processavamo cosa dicevamo cosa mangiavamo tantissime cose e la gente dirà ma dai davvero Lucarelli Piccozzi e Voltolini facevano queste sciocchezze ehi sì però è vero c'è sempre qualcosa dietro c'è un meccanismo la cosa bella è proprio scoprire quel piccolo meccanismo che ti fa pensare ecco vedi siamo ancora così perché secondo me siamo ancora così ma mi viene in mente adesso una cosa il il medioevo ha un fascino suo no? non credo che se il nome della rosa fosse stato ambientato in altri posti no? in altri in altri tempi avrebbe avuto questo questa 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 fascinazione e non a caso anche lì c'era l'investigatore un pastiscio un'immaginazione ma invece voi che avete visto le strutture penso anche dell'indagine perché magari magari bisogna anche che qualcuno facesse dell'indagine per capire quale è maiale non lo so mi chiedo e come è strutturata la questione diciamo legale e di e di investigazione e un'altra cosa è avete avuto l'impressione che la giustizia fosse in qualche maniera un potere in contrasto con altri poteri come siamo abituati a pensarlo noi adesso la tripartizione del potere o fosse un'emanazione diretta di un potere centrale diciamo che tutto sommato la grande differenza è che l'amministrazione della giustizia era gestita a livello locale o territoriale anche perché nel medioevo poi codici non ne avevi non c'era ancora stata l'invenzione della stampa e quindi la disponibilità di conoscenza uno dei motivi per cui molti processi terminavano con una esecuzione pubblica era proprio quella cioè dovevi far vedere esattamente dal vivo qual era il rischio che si correva infrangendo determinate leggi perché non c'erano appunto i codici le prime investigazioni scientifiche sono un po' più tardi il primo caso ad esempio mi viene in mente che nel caso di Beatrice Cenci che poi fu condannata per l'omicidio del padre insieme alla madre e lì ci fu una sorta di messa in scena per far finta che in realtà tutto fosse avvenuto cioè Francesco Cenci fosse vittima di un incidente lo praticamente scaraventarono giù da un balconcino di una torre anzi più che scaraventarlo lo sfondarono con i piedi il pavimento del balconcino e soltanto che poi a un certo punto le voci cominciarono a girare e fu nominato un esperto un consulente che riesumò e quindi siamo nel 1500 e qualcosa con Beatrice Cenci fu il primo caso in cui venne riesumato un cadavere e naturalmente si scoprì che c'erano dei segni di percosse per cui altro che gettato o caduto da un balconcino era stato randellato letteralmente randellato hanno usato un mattarello per stendere la pasta uno stenderello e quindi è il primo caso ci sono anche lì siamo sempre però intorno alla metà del 400 e inizi del 500 con la scuola medico legale di Padova essenzialmente per cui ti direi no non c'erano investigazioni non c'erano corpi di polizia strutturati ogni signorotto locale gestiva il potere sulla domanda precedente che cosa si è cambiato francamente uno dei capitoli che abbiamo dedicato nel libro nel podcast perché poi dovete sapere che il podcast è poi diventato un libro per Solferino e uno dei mi sono perso sì ripreso è il tema delle crociate francamente è inutile inutile dirvi che a seconda di dove vediate come vediate la situazione gli infedeli possono stare di qua o di là dalla barricata e quindi in realtà le crociate stavo vedendo recentemente un caso che è successo nel 2019 negli Stati Uniti anzi no in Nuova Zelanda un certo Fred Tarrant il quale si è mosso dalle crociate ed è stato un caso curioso non perché ne abbiamo parlato perché è recente perché ha cominciato praticamente si è armato di una serie incredibile come se fosse veramente in partenza per le crociate il suo obiettivo erano gli islamici dopo una serie di situazioni che aveva vissuto a livello personale lui ha preso tutti i caricatori tutte le armi le canne dei fucili e ci ha scritto sopra con un pennarello indelebile bianco i nomi di tutti coloro i quali avevano combattuto l'islam da Carlo Martello in avanti quello che è curioso per cui ve l'ho citato è che a un certo punto su un caricatore c'è scritto il nome di Luca Traini sapete vi ricordate che Luca Traini è quel signore che a macerata ha deciso di vendicare l'omicidio di una ragazzina di Pamela Mastropietro e di farlo sparando e anche lì sempre a proposito di bizzarrie perché su questa cosa ci tengo abbastanza ma è un discorso un po' più importante quando c'è stato questo caso di questa povera ragazzina uccisa e poi fatta pezzi per essere nascosta in due trolley c'è stato qualcuno ricorderete che si è alzato dicendo ma non solo è successo questo perché tutti sanno che i nigeriani mangiano il cuore delle persone e via di questo passo con dichiarazioni farneticanti per cui naturalmente a Lagos ci sono ristoranti ovunque che servono carne umana e se la cosa non veniva fuori come tema importante era solo perché i magistrati lo sapevano benissimo ma avrebbero dovuto fare questioni e aprire un dibattito che avrebbe poi fatto correre il rischio di accendere una miccia di fare esplodere questo ve lo dico semplicemente perché io ho periziato Luca Traini l'ho visto per conto della procura lui mi ha raccontato che ha preso una pistola ed è passato all'atto dopo aver sentito che i nigeriani mangiavano cadavano quindi medioevo qua 2019 facciamo ascoltare un pezzo sì sentiamo come appare deforme per questo si pensava fosse portato alla violenza lo hanno chiamato l'impallatore per via della feroce morte che infliggeva i nemici catturata muore sul rogo il 30 maggio 1431 una donna mossa della brama di potere ascolta storie di complotti e omicidi nel medioevo nel podcast Nero come il terrore solo su audible posso dire ovviamente non facciamo così non è che ci troviamo io e lui perché altro che le bar in una cripta tutte e due questo è un trailer tornando a quello che ci piace ragazzi abbiamo cominciato il podcast libro con questa storia nel 2012 in un parcheggio di un supermercato all'Eister ci sono delle persone che stanno scavando non si capisce bene cosa stiamo facendo in realtà poi lo scavo è nei resti di un'antica cattedrale aprono una piccola tomba una copertura e ci trovano il cadavere i resti scheletrizzati di Riccardo III con la sua scogliose esattamente come descritta da Shakespeare e lì è stato l'incipit l'abbrivio per cui ripartiamo ogni volta che partiamo con un nuovo lavoro c'è sempre un particolare che ci scatta molla a me in questo momento ad esempio e vado già avanti è il Caino di Samarago che rimescola completamente le carte o è l'omicidio di Gesù Cristo visto dalla parte di Giuda perché non ricordavo ad esempio che Jesus Christ Superstar inizia con una canzone di Giuda che si rivolge a Gesù e gli dice attenzione perché farei una brutta fine e quindi sono tutte quelle molle quegli inneschi che poi ci portano a comprare libri cioè noi finiamo abitualmente un podcast con un pezzo di libreria in più cioè non un paio di libri un pezzo di libreria in altri casi forse con dei nomi che noi conosciamo per esempio mi dicevi di Giovanna d'Arco Giovanna d'Arco è una cosa di cui si è occupato lui io del suo amico soprattutto Gilles Deret che era un serial killer diciamo così perché alla fine trattando ovviamente dal medioevo giriamo e ritroviamo molte volte le stesse situazioni e persone che si contattano che ci sono che sono vicine perché sembra che fosse difficile vedersi o contattarsi invece poi alla fine i reali sono tutti parenti le situazioni sono sempre quelle e nel caso di Gilles Deret la cosa interessante è un po' quello che dicevo prima è scoprire certi meccanismi perché va bene un caso eclatante era un amico di Giovanna d'Arco un tizio che veniva da una famiglia nobilissima del cuore della Francia aveva combattuto aveva sconfitto gli inglesi cioè era un eroe una specie di eroe poi in realtà non era ricco come sembrava perché aveva un sacco di debiti e soprattutto così aveva il vizio di ammazzare bambini soprattutto e finché Gilles Deret lo ha fatto e quindi in questo è un serial killer come i tipici serial killer di cui abbiamo raccontato tante cose noi abbiamo fatto un libro che si chiamava Serial Kill però finché Gilles Deret ammazzava soltanto poveri bambini qualche volta una ragazzina ma di solito bambini ragazzini del popolo che venivano reclutati da alcuni dei suoi servitori tra la gente più povera dicendo vieni al castello di Gilles Deret a lavorare come paggio tutti felici perché così il bambino andava a fare carriera e poi veniva poi spariva improvvisamente e finché succedeva questa cosa qui a persone che erano persone tutto sommato umili non gliene fregava niente a nessuno quello di Gilles Deret era un vizio che un po' sapevano però insomma vabbè un po' come un altro caso che abbiamo raccontato nel libro precedente era la contessa Batorino la famosa la contessa Dracula si diceva si diceva quella leggenda che era una contessa ungherese che faceva il bagno nel sangue delle vergini che non è vero naturalmente però insomma però anche lei nel suo castello erano morte un bel po' di persone finché muoiono delle persone che non sono così di peso è un vizio è un problema è un incidente è la cultura della crudeltà che c'era è normale che se il tuo servo soprattutto se è un ragazzino non fa quello che devi fare lo punisci lo meni lo insisti e magari ti ci muore e vabbè quando poi Gilles Deret ha cominciato invece a toccare persone ragazzini che invece appartenevano ad un ramo un po' diverso della società ecco che allora e soprattutto quando Gilles Deret per problemi economici per problemi dinastici per problemi politici si è ritrovato ad essere ad avere dei nemici potenti ecco che allora l'hanno processato i vizi non erano più semplici vizi o cose che un potente fa a chi non è potente quando si arrabbia sono diventati Gilles Deret il serial killer il diavolo Barba Blu è diventato eccetera e alla fine l'hanno impiccato e d'arso e l'hanno condannato allora questa cosa qui apre tutto un capitolo molto interessante su quello che è il senso dell'impunità che vale fino adesso se sei un certo tipo di persona vediamo decine di film serie televisive o leggiamo libri noir con questo con il tizio che fa quello che vuole perché è un intoccabile e toccare un intoccabile è un bel macello e ci riesci soltanto quando la sua intoccabilità in qualche maniera si incrina perché la politica ha cambiato direzione e questo era quello che succedeva Gilles de Ré racconta oltre alla storia di un serial killer terribile oltre a tutto quello che volete la nascita di una leggenda che è quella di Barba Blu che si lega alla visione dei diavoli legati al colore blu a tantissime cose e oltre a tutto quella cosa lì che è quella che di solito conosciamo ci apre un capitolo interessante su quella che è l'impunità del potere e sul fatto che puoi fare quello che vuoi finché ti viene permesso di farlo se sei un certo tipo di persona è stato interessante e la cosa che colpisce anche quando dicevi prima il nome della rose il Medioevo li trovi dei contrasti fortissimi che dal punto di vista letterario sono molto belli oltre ad avere un'immagine nel Medioevo abbiamo un'immagine di un posto buio un'epoca oscura fatta di follia di violenza dove il mondo era fatto in quel modo lì in realtà non è vero c'erano anche tutta un'altra serie di aspetti nel Medioevo ma questa cosa qui così nera così noir ovviamente ti permette di ambientare lì dentro delle storie affascinanti come hai detto tu il nome della rosa è stato uno dei primi romanzi di questo genere con delle forzature però naturalmente perché la figura di Guglielmo da Baskerville è Sherlock Holmes e ha delle modernità che uno come lui magari allora non avrebbe potuto avere va bene però è quello e l'altra cosa è proprio questa cosa qua è il fatto che ti ritrovi di fronte a personaggi che sono un contrasto voi vedete Gilles de Ré Gilles de Ré la persona più in quel momento lì come dire l'eroe della Francia l'amico di Giovanna d'Arco Giovanna d'Arco è la pulzella d'Orléans per i francesi lì è santa Giovanna d'Arco Gilles de Ré il suo amico del cuore che vuoi che abbia fatto uno così ammazzare i bambini questo è un contrasto particolare che è veramente molto interessante è emerso qualcosa anche su Giovanna d'Arco? sì la contraddizione più assoluta cioè santa Giovanna d'Arco è santa è stata anche rivalutata dopo una decina d'anni che era stata bruciata viva è stato rifatto il processo lo ha voluto il Papa che poi era succeduto a quello che era in carico al momento della morte di Giovanna d'Arco Giovanna d'Arco ha vissuto per quattro anni con le allucinazioni o con le visioni cioè qui ognuno di noi è libero di pensarla come crede come ritiene Giovanna d'Arco è la pulzella cioè la vergine di Orlean perché a un certo punto quando comincia a avere le visioni e ce le ha dall'età di 13 anni uno dei criteri per capire e stabilire che fosse in perfetta buona fede che quindi fossero delle visioni è il fatto di essere vergine di essere pura che naturalmente questo avvalorava dava maggior credito peraltro Giovanna d'Arco era pura semplicemente perché ha cominciato a sentire le voci di San Michele di Santa Caterina che aveva 13 anni quindi evidentemente la sua purezza era anche legata all'età Giovanna d'Arco è la persona che risolve poi la guerra dei cent'anni intervenendo con la sua armatura splendente in sostegno di Carlo VII ma Carlo VII era un'altra figura eccezionale perché in realtà era subentrato al padre Carlo VI soprannominato Carlo VI il folle e qui c'è un'altra storia incredibile sempre un po' un'arma dovrebbe essere rientrare nella storia della psichiatria perché Carlo VI a un certo punto succede un fatto si sta spostando da uno all'altro dai suoi procedimenti con la scorta armata è una giornata molto calda si fermano e si accampano e a un certo punto Carlo VI si appisola se non che uno dei suoi uomini che lascia una lancia appoggiata a una parete la lancia si sposta viene urtata e cade su un elmo con un fragore assordante Carlo VI si sveglia di colpo salta a cavallo prende parte a galoppo farà un due o trecento metri poi infatti due o trecento metri gira il cavallo punta i suoi uomini e comincia tirando fuori la spada a affettarli ne secca almeno sei naturalmente devono fermarlo lo fanno con le dovute maniere perché è pur sempre un reale e quando lo fermano finisce in coma si risveglia dal coma convinto di essere fatto di vetro e questa è un'altra delle cose che a me è capitato di andarmi a vedere perché in quell'epoca siamo nella seconda metà del quattrocento ci fu in Europa un'epidemia di deliri di persone che credevano di essere fatti di vetro posso dirvi perché è difficile anche perché la follia ogni stagione ha la sua identificazione cioè ci ricordiamo che da bambini andavano ancora di moda le barzellette sul matto che pensava di essere Napoleone in realtà io che faccio lo psichiatra se proprio c'è un delirio di questi giorni di questi tempi è quello di essere telecomandati dai microchip sottopelle anche se il presidente Schreber di Freud anche lui aveva un delirio di essere telecomandato con dei fili invisibili quindi c'era già un buon punto ma questo delirio di essere fatti di vetro raggiungeva delle vette inarrivabili c'era chi pensava di vivere in una bottiglia in bilico sopra un tavolo e quindi temeva che muovendosi la bottiglia rotolasse cadesse dal tavolo e si frangesse con lui dentro c'era chi invece pensava di essere di vivere su una superficie quella della terra che era fatta di cristallo e che sotto fosse abitata da pesci mostruosi orribili pronti a divorarlo per cui non scendeva dal letto per il timore di poter incrinare la superficie di cristallo della terra con quello assolutamente inarrivabile ancora di più di un signore che partì dalla Francia si fece tutta la strada fino ad arrivare a Murano e finalmente gettarsi in una fornace e ricongiunsesi con la materia prima visto che era fatto di vetro e questo è il padre di Carlo VII che Giovanna d'Arco praticamente salva dalla sconfitta con gli inglesi ponendo fine alla guerra dei cent'anni che poi Giovanna d'Arco è amica di Shield de Re che è barba blu e quindi vedete che poi da una cosa giriamo sull'altra e partiamo partiamo per la tangente poi come ho fatto io adesso il vetro è bellissimo ce ne sono altre ma guarda te ne racconti uno perché mi viene in mente è del libro precedente ma questa è Splatter barra curiosa è della storia di Marcantonio Bragadin è stato un generale della Repubblica Serenissima praticamente così bravo a fronteggiare i turchi che a un certo punto alla fine i turchi vincono quello che c'era in ballo era il possedimento di Cipro quindi battaglia di Famagosta con Marcantonio Bragadin che tiene testa alla fine vince il turco convoca il rivale e naturalmente si mettono a discutere amabilmente delle tattiche di guerra che hanno utilizzato come se fossero su due schieramenti opposti sì ma due gentiluomini il fatto sta che invece poi praticamente in tempi rapidi il turco si rivela assolutamente crudele e che cosa fa? Fa giustiziare Marcantonio Bragadin e a un certo punto per dare uno shock alla popolazione di Famagosta lo fa scuoiare lo fa scuoiare e praticamente riveste cioè riempie questa pelle di Marcantonio Bragadin di paglia lo mette su un cavallo lo fa annunciare dai tamburi rullanti per cui tutti pensano gli abitanti di Famagosta allora il nostro eroe si è salvato e poi quando arriva vicino si scoprono che in realtà è un fantoccio e questo sarebbe la parte splatter però poi la storia non finisce così perché c'è un certo polidoro che è stato l'attendente di Marcantonio Bragadin che è stato catturato dai turchi e viene portato appunto Istanbul in cattività in prigionia che a un certo punto vede che davanti all'arsenale di Istanbul c'è un numero spropositato di guardie che non ci sono davanti ad altri hangar e pensa che in quell'hangar sia costudito il tesoro sottratto alla Repubblica Veneziana lui corrompe una guardia riesce a entrare a un certo punto dice io non sto architettando nessun furto cioè sto rubando quello che i turchi hanno rubato a Cipro e sta a dormire finché è una bella notte apre questo forziere dove lui ritiene che ci sia il tesoro e invece si ritrova il fantoccio impagliato del suo capo e in due secondi pensa questo è il fatto splatter come faccio a portarmi fuori il mio grande capo a cui voglio bene ancora anche se sono passati cinque anni e la decisione lì per lì molto veloce è di scucire il capo e indossare la pelle del corpo per cui se ne esce bello bello e tranquillo indossando la pelle di Marcantonio Bragadin e con questa va dall'ambasciatore a Venezia che nel frattempo era stato rimesso al suo posto il quale ambasciatore di Venezia nel 1500 qualcosa fa in modo che la pelle di Marcantonio Bragadin ritorni a Venezia dove è conservata ancora oggi in una piccola chiesetta dove si può ammirare fine c'è dentro tutto l'abbiamo citata mi pare San Giovanni però San Giovanni sono sicuro ma c'è un'altra aggiunta lo so perché naturalmente ho una compagna che naturalmente le tocca seguire queste strane mie inclinazioni che è andata in gita a Venezia a vedere la Biennale gli ho detto vai mi ha detto sono andata ma era chiusa porco cane ho insistito volevo che sapete quelle piccole librerie che vendono vecchie storie antiquarie ho detto vai dentro a cercare ma su quello non se l'è sentita ho una curiosità su Barbablu il nesto fra Gilderet e Barbablu qual è esattamente? allora ci sono tre nessi che si legano uno è Gilderet poi c'è la fiaba di Barbablu la leggenda sappiamo datarla la fiaba di Barbablu poco dopo cioè le prime versioni sono un po' dopo ma insomma non così tanto lontane perché si rifanno a questa leggenda di Gilderet che allora che veniva soprannominato Barbablu in quel periodo lì perché il blu è il colore del diavolo per alcune in alcune tradizioni allora un uomo con la barba blu non ce l'aveva la barba in realtà era un altro tipo ma non importa questa era l'idea che c'era poi ci sono state tutta una serie di cose che hanno motivato questa cosa qui e si sono rifatti alla leggenda di Gilderet a volte viene nominato come Gilderet poi dopo diventa Barbablu e prende una trapiega ed è la fiaba di Barbablu che allo stesso tempo poi si ricongiunge con la realtà con un altro serial killer come si chiamava? Henri Desiree Landrou Landrou esatto Landrou che era invece un serial killer del novecento in Francia il quale diventa Barbablu allora a quel punto hai capito tutto un universo Barbabluesco che parte da Gilderet passa attraverso le favole e arriva fino alla cronaca nera se poi aggiungete che Landrou era soprannominato il serial killer dei cuori solitari perché adescava le sue vittime con gli annunci dei cuori solitari sul giornale ora non ci sono più gli annunci ci sono i social e quindi in realtà arriviamo ecco forse la grande cosa che non c'era nel medioevo erano i social però riuscivano lo stesso a fare delle cose una delle cose che mi ha colpito a me sono le crociate dei bambini cioè questo fatto che sulla base dell'idea della crociata parta qualcuno e con questa visione apocalittica e messianica raccolga tutti gli infelici della società che sono soprattutto bambini perché i bambini nel medioevo ovviamente erano quelli che morivano di fame erano i protagonisti delle novelle delle favole come Ansel e Gretel abbandonati mangiati eccetera quindi raccoglie un'enormità di questi bambini 35.000 che partono lungo la Francia la Germania dalla Francia una dalla Germania due colonne e vogliono arrivare fino al mare per andare in terra santa e combattere e liberarla dagli infedeli solo che sono bambini e sono come e durante questo viaggio vengono massacrati ovviamente perché sono come le cavallette come si diceva prima 35.000 bambini che attraversano un territorio dove mangiano chi li mantiene all'inizio la gente la popolazione li mantiene gli fa dei regali perché tutto sommato sono una sorta di processione religiosa verso la terra santa poi però quando cominciano a sparire i frutti quelle robe lì cominciano a massacrarli e quando arrivano in fondo ovviamente non passano neanche dall'altra parte metà vengono uccisi in parte vengono abusati vengono venduti come schiavi qualcuno se ne torna indietro allora come riesci senza social a costruire una cosa di questo genere eppure ci riesci le voci sono le voci che girano le persone che arrivano la visione di qualcuno il racconto di questa cosa che si ingigantisce i meccanismi sono sempre gli stessi come diceva Massimo prima parti dal di lì vai avanti voci che si rincorrono io mi ricordo poi qui ci lanciamo negli aneddoti non finiamo più nelle storie però tutte queste voci qua Giovanna d'Arco Orlean quello che ha fatto e poi gli spiriti e poi i fantasmi e poi i demoni e poi si costruisce tutto questo e le ho crociate eccetera poi arrivi negli anni 70 quando una voce le voci di Orlean le chiamano sempre in quel paese lì dicono io me lo ricordo dicono che le ragazze di quella città vengono rapite quando vanno a cambiarsi nelle cabine soprattutto di tre o quattro negozi del centro gestite da famiglie ebraiche perché poi anche quello lì ovviamente c'entra e torna le ragazze vanno a spogliarsi lì dentro e spariscono tratta delle bianche la cosa assurda la polizia indaga subito ovviamente non è sparito nessuno a Orlean però questa cosa cresce i negozi vengono boicottati c'è la gente che gli tira le sassate corrono dei rischi molto grossi e le voci di Orlean arrivano fino io mi ricordo che stavo a Faenza in quegli anni quindi ben lontano da Orlean però quando mia mamma andava a comprarsi i vestiti dicevo mamma attenta perché non si sa mai adesso dalle mie parti c'è questo furgone che rapisce i bambini è incredibile il furgone bianco della Romagna ogni tanto arrivano le mie bambine a casa mi dicono abbiamo visto il furgone ma che furgone quello che dicono che rapisce i bambini ma di chi è ci sono due o tre proprietari di furgoni dalle nostre parti che sono impazziti stanno denunciando tutti a Rafica perché si ritrovano su tutti i social come oh è lui come lui c'è un signore di Faenza poverino che non ce la fa più allora queste voci qui adesso abbiamo i social ma allora avevamo la voce e danno la stessa forza e lo stesso meccanismo e la stessa veramente forza trascinatrice che c'era da allora ti chiedevo quella cosa di Barba Blu perché nella mente quando una cosa è un meme diremmo oggi un esterno sembra perso nella notte dei tempi ma evidentemente viene fuori dalle cose che sono ma mi chiedevo Lanterne Rosse te lo ricordi Lanterne Rosse il film cinese e era poi una storia di Barba Blu non mi ricordo l'abbientata quando ma comunque la la stanza proibita diciamo il topos della stanza proibita chissà come vengono fuori queste cose qui chissà quante le avete trovate anche sì ma tante quello che diceva Massimo prima trovi delle cose che ti sembrano assurde ma che in quel momento evidentemente sono come dire l'espressione di qualcosa che esiste tipo la follia del credersi di vetro in questo periodo nel periodo che abbiamo esaminato qui e anche io faccio riferimento noi facciamo riferimento anche al podcast precedente perché è come dire una specie di sono fili che ritornano però una di queste cose a me ha sempre colpito la crisi del ballo di cos'era è un paese in Germania non mi ricordo più il nome va bene Strasburgo la crisi del ballo di Strasburgo improvvisamente frau Todd una signora si mette a ballare e allora tutti dicono vabbè ha litigato col marito è un modo il marito dice smettila e lei davanti a casa balla balla tutto il giorno tutta la notte poi sviene oh dicono va bene no quando dorme due ore si rialza e balla dopo un po' balla un altro un altro un altro alla fine mezza Strasburgo balla ma balla così tanto che un sacco di gente muore proprio chiamano dei musicisti per dare un senso a quello che fanno dicono così si stancheranno muoiono anche i musicisti perché non ce la fanno a starci dietro esiste una crisi così e che è una forma anche lì di delirio di allucinazione collettiva di problemi che ci sono è uno stress sociale che viene espresso in un altro modo ma sono meccanismi che ritrovi anche fatti in un modo diverso anche adesso un'altra cosa che mi aveva colpito è la crisi di riso del lago Tanganyika per cui negli anni 80 mi sembra negli anni 70 non mi ricordo a un certo punto in una scuola alcuni bambini in Africa siamo e si mettono a ridere come succede a scuola ti viene la ridarella ridi i professori si arrabbiano ma tu non puoi smettere poi ridono anche gli altri e poi continuano un migliaio di studenti ridono per un mese ma ci stanno male non muore nessuno per fortuna anche questo delirio collettivo che si lega ad un'altra cosa che abbiamo dovuto in qualche maniera affrontare parlando della crociata dei bambini che è il pifferaio magico vedi per tornare gli stereotipi a quello che leggi nelle fiabe ma che è accaduto veramente che accade anche adesso il pifferaio magico dal punto di vista della favola è una favola incredibile io quando ero piccolino me lo ricordo che pensavo ma dai arriva un tizio con gli abiti sgargianti prende un piffero suona e tutti i bambini gli vanno dietro e lui li butta nel fiume per vendicarsi della città da cui ha fatto sparire tutti i topi ma non l'hanno mai pagato ma sarà così adesso voglio provare io con un piffero vediamo se mi seguite invece è successo veramente nel 1254 a Hamelin che è la città del pifferaio magico ad Hamelin veramente le cronache riportano che nei giorni ti dicono i giorni precisi non mi ricordo quali ma non importa nei giorni precisi arrivò un tizio con i vestiti sgargianti e suonando a volte dicono una corna musa a volte dicono un piffero ma più o meno siamo sullo stesso strumento si portò via c'è un numero preciso di bambini di Hamelin li portò tutti sulla montagna tu dici ma non era una favola ma allora che sia successo qualcosa di questo genere lo sai dalle cronache lo sai dalle e dalle vetrate della chiesa che non ci sono più ma riportavano quello lo sai da tutto dalle testimonianze da tutta una serie di cose che ti fanno dire nel 1254 ad Hamelin è successo qualcosa ai bambini poi ti chiedi erano veramente bambini che cosa è successo qual è il motivo per cui è successo forse torniamo alla crisi del ballo forse sono le crociate dei bambini forse l'immigrazione non so qualunque non so che cosa sia rimane un mistero non che sia accaduto rimane un mistero del perché sia accaduto quindi vedi entriamo e usciamo favole realtà concreta e piccozzi e lucarelli che si divertono a sguazzare in tutto questo questo massacro stavo pensando che una delle ragioni logiche di queste leggende sui bambini scomparsi uccisi tenete conto che a un certo punto sono sempre esistite i casi di morte improvvisa in culla se succedono ancora oggi erano forse ancora più diffusi perché ovviamente non c'erano gli materassini antisoffoco un tempo ma è per noi talmente intollerabile l'idea di non darci una spiegazione l'horror vacui che piuttosto che accettare che un bimbo possa morire senza ragione allora a questo punto è meglio pensare che ci sia un vampiro che entra nelle stanze per cui ad esempio tutte le leggende sui vampiri nascono questa è una delle teorie più accreditate dal fatto appunto di darsi una giustificazione delle morti improvvise in culla un'ultima decido che è ultima perché se no spoileriamo tutto in breve un'altra delle storie incredibili San Simonino da Trento allora perché è incredibile è incredibile perché naturalmente a un certo punto si diffonde la voce che gli ebrei impastino il pane azimo con il sangue dei bambini per la Pasqua ebraica non entro nel merito di quanto sia folle questa idea sta di fatto che però uno dei casi più famosi avviene a Trento con un bimbo sotto i dieci anni che sparisce viene ritrovato ucciso si attribuisce subito la colpa la responsabilità a un gruppo di ebrei della città e fin qui la storia è conosciuta il problema è che Simonino testimone appunto del martirio per la fede diventa santo viene nominato santo ma sapete quando Trento siamo nel 400 quando Trento la città di Trento ha deciso che forse non era il caso di avere come patrono San Simonino perché non era mai stato ucciso è successo nel 1970 fino agli anni 70 nel secolo scorso e si credeva ancora non soltanto si credeva che fosse davvero accaduto ma che Simonino fosse un santo non vi dico poi ma questa cosa di dire non è mai esistita non è mai successa lo ha detto lo stesso Vaticano che in 448 ha preso i resti scelettrizzati di questo povero corpicino e dalla cripta benedetta li ha portati al cimitero perché in realtà non era mai successo e quindi ci sono alcune cose alcune storie che resistono al tempo in maniera incredibile i bambini alle crociate a me fanno venire in mente i bambini soldato di oggi cioè in situazioni in cui la vita è impossibile non hai da mangiare allora promettere un futuro un regno dei cieli un vaalla come lo vuoi chiamare tu riesce a motivare cioè i bambini della crociata oltre a essere arrivati un decimo di quelli che erano partiti quando sono arrivati davanti al mar Mediterraneo si aspettavano che si aprisse perché erano convinti che sarebbe stato esattamente come il mar rosso e naturalmente quando il mare non si è aperto hanno bivaccato per qualche settimana e poi hanno deciso di fare marcia indietro ma ora che sono ritornati indietro non c'era più nessuno non spoilerare più niente possiamo dire qualcosa della forma che hanno questi podcast cioè quanto durano come funzionano sì allora come avete visto ci troviamo in una cripta io e lui tutti e due vestiti di nero poi qualcuno scarica no in realtà il podcast è un bellissimo mezzo secondo me per raccontare storie è un po' di tempo che lo frequento e che mi piace molto perché come hai detto tu ci sono tanti modi di raccontare e ogni modo specifico hai i suoi punti di forza i suoi punti di debolezza e come dire attiva la tua mente in un modo diverso c'è la lettura la concentrazione che fai con la lettura del libro scritto il potere evocativo della parola la lentezza con cui lo puoi fare il fatto che ti puoi fermare tornare indietro pensarci aprire capitoli che sono digressioni ovviamente non puoi farlo all'infinito però di grosse digressioni perché tanto sai che sei lì e tornerai c'hai dei punti di riferimento cosa che la televisione non ha per esempio è molto più veloce e il podcast non ha da questo punto di vista allora scrivere qualche cosa che possa avere delle continue digressioni e faccia in modo che ti dimentichi quello che è stato all'inizio è ovviamente sbagliato il bello del podcast secondo me è che che ti impone di avere un rapporto diretto con la parola proprio perché appunto non hai quella lentezza devi avere una parola che non è così veloce come quella della televisione per esempio io so che quando facevo Blu Notte certe cose non le potevo dire anche se sarebbe stato interessante perché costruivano il personaggio però avrebbero fuorviato l'attenzione del lettore e avrebbero soprattutto creato subito un pregiudizio perché se io avessi detto in un caso di omicidio come quelli di tanti che raccontavamo che il marito aveva un amante è un secondo con cui ve lo dico in quel momento suona il telefono rispondete e il marito avete in testa che il marito aveva un amante e se in quel momento avete fatto era morta la moglie naturalmente lui era il principale sospettato tac quella diventa la storia del marito che ha ucciso la moglie perché aveva un amante in un libro io ho la possibilità di fare tre capitoli sul concetto di amante storicizzarlo e andare sul fatto della famiglia anche la moglie ce l'aveva l'amante erano due cose ma non c'entra niente col caso di omicidio allora non la posso usare questa cosa il podcast non è così veloce però c'è un rapporto diretto secondo me con la parola che è il suono della parola è un rapporto diretto tra le labbra e l'orecchio molte volte quando ascoltiamo podcast o quando lo facciamo perché io a parte che adesso io registro a casa mia per fortuna è arrivato da audible mi è arrivato il microfono hanno settato casa mia e abbiamo fatto era il periodo della pandemia quindi non si poteva uscire non potevo andare a registrare in uno studio quindi ognuno di noi aveva questa cosa mi mandano questo microfono bellissimo io ci metto una giornata a settarlo perché tutte le volte facevo la prova leggevo tre righe poi tu la inviavo con WeTransfer loro ascoltavano e dicevano non funziona perché rimbomba porca miseria sono in una stanza allora vado in un'altra ho fatto tutte le stanze di casa mia prima di scoprire che lo tenevo alla rovescia la porta che non dovevi poi la porta è vero no lo tenevo sai se un microfono fatto così qui c'è la lucina io credevo che la lucina dovesse stare dall'altra parte quindi lui prendeva il rimbombo ma una volta che hai capito io registro di notte soprattutto perché vivo in un paese ma è un paese della Romagna e noi siamo rumorosi per cui o passano i camion c'è un cane che abbaia i piccioni sopra e soprattutto i noi romagnoli che da una parte all'altra della piazza parliamo e uno che sta al bar e tu stai dall'altra parte che io ogni tanto mi affaccio e gli dico scusi ma perché non ci va sono 200 metri neanche sono 10 passi perché devi urlare di qua come stai bene e io registro al di là di quello registro di notte ma anche quando registravo di giorno facevo una cosa su radio DJ e e arrivavo alle 10 del mattino con davanti Fabio B che era il mio DJ che registrava Fabio B era il suo nome del DJ il cognome non l'ho mai saputo comunque Fabio B B puntato e finivamo verso l'una e lui diceva ciao ciao io uscivo e mi stupivo perché c'era il sole perché secondo me era notte e allora molte volte quando ascoltiamo è la voce diretta che vi arriva nell'orecchio e diventa questa cosa buia qual è il problema però secondo me qui ti dico tutta la mia sui podcast è la facilità con cui crediamo che si possano fare e si possano ascoltare per cui da una parte hai il microfono a casa tua ti metti lì puoi fare un podcast puoi farlo su qualunque cosa sulle bottiglie di vetro non c'è problema farò un podcast su quello vado su wikipedia bottiglie di vetro tolgo tre o quattro informazioni o storie true crime che sono quelle che valono di più tre o quattro informazioni se so fare un po' a scrivere le metto bene le registro a casa mia le tratto le infilo da qualche parte ecco il podcast non è vero come ha detto Massimo bisogna studiarsene le cose ma soprattutto ti perdi un sacco di occasioni meravigliose noi compriamo leggiamo e traduciamo un sacco di roba perché quello è il divertente del fatto è scoprire un pezzo di mondo che non sapevi che esisteva prima e che non ti basta wikipedia per dirlo dall'altra parte è l'ascolto siccome è facile ascoltare un podcast adesso leggere un libro devi stare seduto con sto libro lì e non fai altre cose la televisione pure stai seduto da qualche parte e non fai altre cose il podcast è la radio cic no sembra la radio puoi far quello che vuoi se uno ti parla ti vengo dietro io a parlarti tu fa quello che ti pare dai lo straccio lavori guidi ecco attenzione però perché non è una fruizione così semplice se il podcast è bello e interessante beh io non è che posso ascoltarlo con mezzo orecchio perché mi serve uno che faccia rumore come ascolterei un talk show di cui non mi frega niente ma mi serve che qualcuno chiacchieri e parli il bello del podcast sarebbe che io lo ascolto e a un certo punto smetto di fare quello che sto facendo perché devo seguire e la stessa cosa è quello che facciamo noi ad un certo punto devo andare a cercarmi un altro libro perché c'è un'altra strada da andare a vedere secondo voi i podcast si ascoltano da soli o magari in due o tre secondo me tutte le volte che io ho ascoltato un podcast perché guidando la mia famiglia e quindi l'attenzione è più facile a mantenerla perché ci sono i commenti da solo non è che commenti è una cosa che capita non lo so questo io li ascolto da solo non ne ascolto tanti però insomma li ascolto da solo e di solito è legato a questa cosa qui al fatto di di guidare perché se devo dire che ascolto un podcast mentre lavoro il mio lavoro è scrivere storie diventa un po' una schizofrenia volevo lanciare il gruppo invece il gruppo di lettura ah il gruppo di podcast ascolto podcast eh sì può essere una bella cosa anzi grazie il gioco è quello che tu ti illudi di essere una cosa sola con chi ti sta parlando per cui a un certo punto si crea questa magia per cui sembra che chi ti sta raccontando una storia la stia raccontando soltanto a te per cui è più semplice secondo me per questo essere uno a uno continuiamo con i gruppi di lettura io ho ancora una curiosità posso chiedere tu di formazione psichiatra tu trovi delle differenze fra le persone che hai incontrato nel passato e noi cioè dal punto di vista psichiatrico beh allora io passo per essere l'unico il primo profiler italiano quindi dovrei assomigliare un pochino al capo dell'unità di Criminal Minds o al capo di Jodie Foster nel silenzio degli innocenti ho incontrato il peggio non mi sono fatto mancare niente da da Cogne a Erika e Omar alle bestie di Satana a Angelo Izzo ad Avetrana diciamo che al di là della retorica mi sarebbe piaciuto in certe situazioni alzarmi e uscire dalla perizia dal setting peritale con la convenzione che io ero quello sano quello che era il mostro in realtà anche se l'Arendt non l'ha cognato per questo la banalità del male esiste non esiste nessuno che assomiglia a Hannibal Lecter e purtroppo è quello che vedete tanto per tornare al discorso lettori quali siete accaniti cioè io la mia tesi di specializzazione in criminologia l'ho fatta su La promessa di Durrematt che è anche diventato un film con Jack Nicholson non sto a spoiler albero è stato un bellissimo romanzo che non è si sottotitola Requiem per un romanzo giallo per cui non è un romanzo ma quello che racconta Durrematt è la casualità e io quando mi chiedono ma cosa ne pensi di Erika Omar io vi rispondo se quei due ragazzi non si incontravano per caso e si frequentavano per qualche mese non sarebbe mai successo nulla probabilmente se Samuele Lorenzi non avesse avuto un problema avesse pianto si fosse avesse finito di intercettare il suo malessere un malessere della madre non sarebbe mai successo nulla non sarebbe successo un'altra volta per cui diciamo che i criminali dal vero sono molto meno interessanti sono tragicamente più veri ma molto meno interessanti di quelli che poi raccontiamo di che Grazie a tutti